Di corde cosa usi? Corde da qualche anno ormai uso le dogal Dogal, che mi hanno sgridato a me perché Anch'io diceva sempre dogal, invece è dogal perché sono veneziano Sì, ma anch'io sono veneziano, ma non mi hanno mai detto Ti ha detto Marco? Non ti ha mai sgridato? Non mi ha mai sgridato Dogal, beh in effetti, dogal Va bene anche dogal, se ci chiedete le dogal ve le diamo lo stesso Si, oi, ora, cordi, ti chiedo di usare dogal Esatto L'ho detto giusto Ecco, mi faranno un meme di questa cosa sicuramente Dopo lo faccio io